Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere con noi quest'oggi il Presidente del Fondo Comuni Confinanti, Dario Bond, che saluto e ringrazio. Buonasera a tutti. Grazie Presidente per la sua partecipazione. Cominciamo con un cappello introduttivo, facciamo un po' chiarezza, perché si parla tanto, si parla sempre di questo fondo, ma che cosa fa, che cos'è, quali sono i suoi compiti? Il fondo nasce per lo stimolo che diversi comuni, molti comuni della nostra provincia, ma anche di altre, anche della provincia di Vicenza, ma anche di Verona, un po' di tempo fa hanno fatto che era quello di dire così non va, noi non vogliamo più aderire a una regione assoluta ordinaria, ma vogliamo andare in Trentino o addirittura a Bozzano. Da quel movimento di tipo referendario nasce su azione forte del Ministro attuale, onorevole Calderoli e dell'onorevole Bancaer, nasce il patto di Milano e nasce essenzialmente una sorta di accordo con le province di Trento e di Bozzano, che a fronte del trattenimento da parte loro di 9 decimi di tributi complessivi, daranno in una partita doppia del dare e dell'avere, daranno la rispondibilità al Ministero delle Finanze e a quello della presidenza dei Consigli dei Ministri, di dare ogni anno 40 milioni la provincia di Trento e 40 milioni la provincia di Bozzano, quindi in totale 80 milioni, che fa parte da leone di questa fetta, di questo grosso fondo, è la provincia di Belluno, perché ha i maggiori comuni confinanti sia con Trento che con Bozzano e da questo nasce fondamentalmente poi una serie di passaggi, di regolamenti, nasce la messa a terra di alcuni grossi progetti, fino ad arrivare ad oggi che abbiamo, e ce lo invidiano tutti, un ufficio referente presso l'amministrazione provinciale di Belluno molto ben organizzato, diretto da una dottoressa brava, che è la dottoressa Cari Battistin, che io ringrazio, perché è anche di tutti i suoi collaboratori e questo ufficio referente va a gestire la parte più grossa del fondo, ma lo gestisce e la gestisce bene, la gestisce in termini di riferimento per i sindaci, anche per altre realtà di altre province, perché arrivano tante domande e tante telefonate. È chiaro che molto deve essere ancora fatto, deve essere ancora fatto molto nelle province di Vicenza e di Verona, deve essere fatto ancora tanto nel rapporto di collaborazione tra Bozzano e Trento su progetti condivisibili da tutti. Certo è che per la provincia di Belluno è una grande risorsa, per la vita dei comuni stessi. C'è un vulnus su questo, che io spero in qualche maniera domani anche con l'approvazione della nuova legge sull'autonomia di risolvere, che questo fondo è fatto tutto di conto capitale, cioè di spese di investimento. Noi abbiamo bisogno anche di spese correnti. Traduco, quando un sindaco si trova in difficoltà a pagare l'assistente sociale o l'ambulatorio del medico di base o il pulmino che va avanti indietro i ragazzi, quelle sono spese correnti. Noi dobbiamo dare un segnale a queste realtà, perché ormai il nostro territorio sta in piedi se ci sono servizi. Se non ci sono servizi, la montagna crolla, è una frana dal punto di vista sociale. Quindi per raggiungere questo obiettivo bisogna che modifichiamo la legge nazionale, l'intesa nazionale. Però devo dire la verità, il rapporto che io ho messo in piedi con Bozzano e con Trento è un rapporto talmente di forte costruttività che loro, se ci fosse una modifica a livello parlamentare, sarebbero ben disponibili anche di dare questo segnale importante. Quindi non è più il muro contro muro. Noi questo è un buon auspicio che ci dà Presidente, naturalmente sono notizie che ci rendono felici. Senta, ma c'è una notizia recentissima, il nuovo regolamento del fondo. Sì, già un primo regolamento nell'epoca della mia prima presidenza era stato approvato il 22 ottobre 2021. Poi ci siamo accorti, purtroppo con le guerre e con l'aumento dei costi delle materie prime e la crisi energetica in generale e i costi anche delle imprese sensibilmente aumentati, ci siamo accorti che dovevamo in qualche maniera aiutare i soggetti attuatori di questi fondi, quindi di queste opere, a ultimare le opere, perché in molti casi i cantieri si sono inchiodati perché i costi sono aumentati al 30% e i comuni non sapevano dove prendere questi soldi. Allora abbiamo proprio lavorato circa un anno e siamo recentissimamente andati in approvazione dopo aver fatto una grande plenaria dei sindaci, una grande riunione bellissima a Trento in presenza con tutti i sindaci della Lombardia, del Veneto, bella, è stata una roba molto bella, dove ci siamo confrontati, dove sono uscite delle idee e dopo questa approvazione dei sindaci del 12 gennaio siamo passati fondamentalmente alla data del 18 gennaio in cui abbiamo approvato il regolamento, ci abbiamo messo poco, è stata un'approvazione diciamo all'unanimità perché ormai tutti i punti si erano sbossati. Ben definiti, ma quali sono gli aspetti principali quindi delle novità? Benissima domanda, gli aspetti principali di questo nuovo regolamento sono fondamentalmente 3. Il primo a fronte di progetti della vecchia programmazione, 13, 18, 19, 24, quindi un arco molto lungo di tempo, a fronte di questi progetti bloccati per aumento dei costi delle materie prime si interviene dicendo ai comuni fate una stima di quello che vi serve e il fondo la mette pescando i soldi della nuova programmazione, quindi 25, 26, 27. Quindi la sicurezza che si può finire il cantiere ed è una cosa importantissima. Poi questi progetti che sono partiti parecchio tempo fa non avranno più ulteriori rinvii ma la scadenza sarà tutta nel 2030, quindi parecchio tempo. Terzo punto fondamentale è che c'è stato nel corso del 2023 anche il nuovo codice degli appalti che ha cambiato, il decreto legge numero 36, che ha cambiato una serie di situazioni e abbiamo dovuto adeguare queste situazioni al nuovo codice degli appalti e ci siamo detti con i sindaci, se avremo delle risposte affermative su alcune interpretazioni possiamo anche creare una serie di collaborazioni e di cose positive nell'applicazione di questo nuovo codice degli appalti per migliorare ancora di più la meno burocratia nel realizzare questi cantieri. E la terza cosa bis della situazione è che abbiamo prolungato di un anno la programmazione, non solo 25, 26 ma 27, facendo coincidere con la scadenza della legislatura del Parlamento Italiano. Il Parlamento Italiano scadrà nel 2027, la programmazione del fondo scadrà nel 2027. Quindi per avere un allineamento, ecco diciamo così. E da quando entra in vigore quindi il nuovo? Praticamente aspettiamo la pubblicazione nel albo e poi qualche giorno insomma. Senta, ma gli ambiti di intervento sono differenti comunque? Lei ha parlato di infrastrutture, cantieri e quant'altro, però gli ambiti sono i più disparati? Bravissima, gli ambiti sono i più disparati. Si va dai grandi eventi che l'amministrazione provinciale, anche su mia idea, ma su idea anche degli amministratori della provincia, ha realizzato, ad esempio la sponsorizzazione del Giro d'Italia, ai grandi eventi, anche di grandi manifestazioni, il Giro delle Mura, manifestazioni praticamente importanti che hanno una visibilità nazionale, fino alla realizzazione di opere importanti che possono riguardare un rifugio alpino, possono riguardare il cablaggio di una determinata area, possono riguardare l'intervento ambientale, possono riguardare una scuola, possono riguardare anche, guarda caso, una piastra endoscopica, ad esempio per l'ospedale di Feltri. Quindi la sanità. O una grande collaborazione con il primiero per quanto riguarda l'accertamento in tempo reale di alcune patologie, diciamo, neurocardiologiche, che possono in qualche maniera, se si ha un'azione preventiva, diciamo salvare una vita umana. Quindi il fondo a supporto della sanità di montagna, ecco questo. Il fondo proprio a supporto della sanità di montagna e dei servizi. Il mio sogno che ho nel cassetto, e lo ribadisco rispetto anche all'inizio di questo intervento, è quello di poter avere, o meglio, di poter dare al territorio anche delle spese pronta cassa. Ecco, uso un termine vecchio. Però per far capire subito, no? Cosa intendiamo? Per me lo tiro fuori al cassetto, mi serve 500 euro perché c'è un ragazzo disabile che ha bisogno. Ecco, io ho quel sogno, vorrei realizzare quella cosa. Ma nell'ottica del fondo, naturalmente, dal suo osservatorio privilegiato, Presidente, quali sono comunque i nodi principali che servono, ai quali bisogna far fronte, ecco, per la montagna dolomitica? No, i principali sono fondamentalmente, secondo me, tre migliori collegamenti, perché se ti viengi una frana sul Vagordino sei lì bloccato, sia per chi va a lavorare in luxottica, sia per le persone che hanno bisogno di andare in ospedale o fare commercio. E questo è una cosa che noi dobbiamo, cioè, in qualche maniera dobbiamo vincere questa battaglia. E a me dispiace, ad esempio, che la Galleria Comerico sia solitolti tanti milioni di euro, che il Ministro Franco, assieme anche a un imprenditore famoso, Francesco Ebbettin, anche molto umilmente, anche da parte mia, ancora quando ero deputato, eravamo in qualche maniera riusciti ad ottenere. Questi sono i collegamenti. I collegamenti, le infrastrutture. E la seconda cosa, una rete di servizi, che non sono solo per la montagna, la sanità e il sociale in generale, ma anche un ragazzo che, onestamente, deve prendere il bus, la corriera per andare a scuola a Feltro e a Belluno, chiaramente deve essere sicuro di prendere la corriera. In molti casi succede che, o perché non c'è l'autista, o perché c'è il freddo... Ci sono delle criticità. Terzo punto, poi ancora una domanda da farle, Presidente. Il terzo punto è aiutare molto i nostri comuni, i nostri municipi, i nostri sindaci, che sono una ossatura fondamentale per la risposta dei cittadini. Se i cittadini hanno delle amministrazioni, dei comuni, forti in termini di servizi, in termini di macchine a buttavia sale, in termini di risposta immediata su alcune cose, in termini di sportello, perché entro il sportello del posto viene chiuso, ora il sindaco è forte, ed è forte anche il cittadino che lo vede. Se noi indeboliamo questa ossatura, veramente viene giuna frana. Senta, l'ultima domanda, Presidente. Olimpiadi 2026, un'opportunità per il territorio bellunese, una sfida comunque. E il fondo su questo? Il fondo su questo ha, su solicitazione soprattutto del comune di Cortina, ha dato un segnale. Ed è anche sempre attento a tutto quello che succede. E' da capire fondamentalmente se le Olimpiadi sono con la pista di Bob o sono senza la pista di Bob. Questo è di rimente. Perché dopo c'è da pensare anche alla legacy del dopo Olimpiadi. Cioè, noi non possiamo arrivare a Cesana, pista di Bob di Torino, l'Olimpiadi di Torino, che ha fondamentalmente le ortiche alte così. Dobbiamo mantenerle poi le strutture. Ecco, il fondo potrebbe essere utile per questo. Per vincere la grande sfida, ecco, la grande opportunità. Presidente, io la ringrazio. Avevo ancora una lista lunga di domande, ma vedo che il tempo scorre. Buon lavoro, Presidente. Grazie. E a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.